Da mesi non si fa che parlare della presenza di Kenyaman al Festival di Sanremo 2022. Secondo le indiscrezioni l'attore turco affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston. Pettegolezzi che hanno subito mandato in fibrillazione le tante fan della fascinante 32enne, in questi mesi impegnato sul set della nuova fiction viola come il mare. Dopo tanti gossip Kenyaman ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, smettendo la sua partecipazione alla Kermess musicale più importante d'Italia. Non sapevo di andare a Sanremo. A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono. Che vorrà dire? Bah? Dunque nulla di fatto, Kenyaman non sarà a Sanremo 2022. Al momento non è chiaro se la trattativa con Amadeus non sia andata a buon fine o se non in realtà non sia mai iniziata. Ad oggi è certo che il conduttore Rai sarà affiancato ogni sera da una donna diversa, tra le cinque fortunate l'attrice di Don Matteo e Blanca Maria Chiara Giannetta. Confermati come ospiti del festival, invece, l'attore e regista Checco Zalone e il cantante Cesare Cremonini, Tommaso Paradiso, ex frontman dei giornalisti, dovrebbe invece presenziare a tutte le serate come accaduto negli ultimi due anni a Tiziano Ferro e Achille Lauro. I 22 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 Elisa, Dargen D'Amico, Gianni Morandi, Donatella Rettore più dito nella piaga, Noemi, Eisnob più, Li Vibrazioni, San Giovanni, Massimo Ranieri, la rappresentante di lista, Anna Mena, Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, R. Comi, Fabrizio Moro, Mahmood and Blanco, Irama, Giussi Ferreri, H7 Even, Giovanni Truppi. I nuovi progetti lavorativi di Kanyaman Dopo il successo delle serie tv turche Kanyaman si è trasferito in Italia. In questi mesi è a lavoro sulla fiction Viola come il mare, dove recita accanto a Francesca Chillemi, con la quale pare ci sia stato un flirt tra un Chuck e l'altro. A breve inizierà a lavorare a Sandokan e Marianna, remake del celebre Sandokan degli anni 70. Che lavorerà accanto a Luca Argentero e Raul Bova. E la vita privata, ha un anno dalla chiacchierata storia d'amore con Diletta Leotta Kanyaman è single. Più volte si è parlato di liaison per l'ex modello mai diretto interessato non è mai uscito allo scoperto con un nuovo amore. Ken è più che mai concentrato sul lavoro.